Che cos'è un keynote speech? Quando parliamo di public speaking, quando parliamo di art, di parlare in pubblico, molto spesso usiamo delle parole di cui non conosciamo perfettamente il significato e tante volte quando parliamo di keynote speech facciamo riferimento genericamente a una presentazione in pubblico. In realtà è un termine molto preciso e molto specifico di cui si è occupato il mio sito un po' di anni fa, parlarealmicrofono.it, con un post, l'art del keynote speech, da Obama a Steve Jobs i discorsi che hanno incantato il mondo. Parto dalla fine di questo articolo per raccontarvi la definizione di keynote speech. Allora il termine keynote deriva da una pratica di canto senza accompagnamento musicale e durante questo tipo di esecuzione viene suonata una nota prima dell'inizio dell'esibizione e quella nota è la chiave in cui verrà eseguito il brano, da lì keynote, quindi questo già ci fa un po' capire il significato generale del termine keynote speech all'interno del public speaking perché se keynote è un po' una nota chiave il keynote speech è un discorso chiave, cioè è il discorso solitamente di apertura di una serie di discorsi che seguiranno. Dice l'articolo l'espressione keynote in campi quali la musica, la letteratura, il public speaking sta ad indicare il filo conduttore di una melodia, di un testo letterario o ancora di un discorso o di una serie di discorsi. Il keynote speech stabilisce il tema principale di cui si parlerà e la direzione nella quale andranno tutti gli interventi che seguiranno. Quindi c'è una figura particolare che viene identificata in questo senso che è il keynote speaker. Il keynote speaker è lo speaker che fa un discorso introduttivo che genera poi un filo conduttore su cui si baserà tutto il seguito dell'evento. Quindi quando parliamo di keynote speech e di keynote speaker parliamo ovviamente molto spesso di politica, per esempio nella cultura politica americana succede questo, nelle convention del partito democratico, del partito repubblicano ci sono dei keynote speaker, cioè degli speaker che lavorano proprio alla prima presentazione di una convention a cui poi seguono tanti altri discorsi di public speaking. Questo in generale negli Stati Uniti è molto noto anche per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Pensiamo per esempio ai famosissimi keynote speech di Steve Jobs o a quelli attuali di Tim Cook. Quindi ricordiamoci sempre quando parliamo di keynote speech non parliamo semplicemente di discorsi in pubblico, ma parliamo di discorsi in pubblico che ci danno la nota chiave di tutto ciò che seguirà.